Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi parlo di un caso che qualcuno di voi mi ha richiesto e, quando mi sono immersa nella storia, ho capito che dovevo parlarne perché è un caso che grida giustizia. E ve lo anticipo subito e, ahimè, irrisolto. So che molti di voi non amano i cold case, però questa storia merita l'attenzione di tutti. E vi avviso, di nuovo, è una storia che vi spezzerà il cuore. Oggi vi parlo della tragica sparizione di Donatella Grosso. Teatro della nostra storia è Francavilla al mare, che anche se in provincia di Chieti fa parte del conglomerato urbano di Pescara, sulla costiera abruzzese. Ed è lì che la notte fra il 25 e il 26 luglio 1996 Donatella Grosso, trentenne molisana, improvvisamente scompare. Quella sera a Pescara si festeggia Sant'Andrea, tutta la città in festa, piena di luminari, giostre, zucchero filato e bambini felici. Qualche chilometro più in là, a Francavilla a mare, è buio e silenzio. Gli unici rumori che si avvertono provengono da una villetta, dove intorno a luna di notte la protagonista della nostra storia, Donatella, si appresta a uscire con due grosse valigie. Insieme a lei c'è un ragazzo, che solerte la fa salire su un'auto diretta alla stazione di Pescara. Partire per non tornare mai più, questo fa Donatella. Eppure, di motivi per rimanere, Donatella ne aveva molti, i suoi genitori, i suoi amici, un nuovo amore. Perché Donatella è andata via da sola? E dove è finita Donatella? Prima di addentrarci nel mistero della sua sparizione, capiamo chi è Donatella Grosso e soprattutto perché fa perdere le proprietacce improvvisamente in una serata di luglio. Donatella nasce il 3 febbraio 1966 a Toro, provincia di Campobasso, in Molise, paese d'origine dei genitori. Ma cresce a Viterbo, la sua è un'infanzia felice e spensierata. Essendo figlia unica, è al centro di tutte le attenzioni di Papa Mario e Mamma Tina, entrambi insegnanti. I Grosso sono una famiglia serena e allegra. La loro casa è sempre piena di parenti e amici, economicamente sono benestanti e non fanno mai mancare nulla a quella loro figlia adorata che li riempie di orgoglio. Non è una ragazza viziata Donatella, è solo ricolma di amore e lei quell'amore lo ricambia con forza, impegnandosi nello studio, cercando di essere una figlia degna di quei genitori che tanto ama. Ha un animo romantico Donatella, una che sogna l'amore, quello totalizzante, quello della vita. Vuole sposarsi e avere figli? Ma è anche determinata, vuole avviare una carriera, magari come insegnante, come genitori, e per questo studia fino a conseguire una laurea in lettere all'Università di Pescara, ed è per tutti una gioia. Parenti e amici di lei ricordano il sorriso dolcissimo, la battuta sempre pronta, la disposizione alla vita. Di sé, dice, non cambierebbe nulla, ma come scrive lei stessa nei suoi diari, si trova un po' rotondetta. Se solo avessi 30 kg in meno, sarei una gnocca stellare, scrive, rivelando di sé anche una grande dose di autoironia. Le amiche in lei trovano rifugio e lei, per loro, ha sempre una parola di conforto, il consiglio giusto. Donatella, però, continua a sognare il grande amore, che sembra non arrivare mai. E in effetti, negli anni dell'adolescenza e della prima giovinezza, colleziona molte delusioni d'amore. È una delle lunghe lettere che scrive a tutti, ai tanti amici, ai parenti e soprattutto ai genitori. Ama la musica e ogni tanto si esibisce con un gruppo fondato dal suo miglior amico Lamberto. Il pezzo che ama cantare è New York, New York, anche perché è il pezzo cantato dalla sua cantante preferita, Liza Minnelli. Da qualche mese vive nella casa che i suoi hanno comprato per lei a Francavilla a Mare e con la sua Peugeot Cabrio Bianca, regalo di laurea, scorazza per il paese con la sua migliore amica Antonella e, soprattutto, va a trovare la nonna che vive a Campobasso e i genitori a Viterbo. È libera, felice, indipendente, ma le manca l'amore. Da qualche mese Donatella lavora per un'azienda piramidale, la Millionaire. Non è un lavoro molto pagato, nonostante le altissime aspettative, ne è particolarmente gratificante, ma Donatella, come tutto nella vita, lo fa con passione. Il 26 aprile 1996 Donatella partecipa a una convention aziendale e lì conosce un ragazzo che la colpisce immediatamente. Anzi, le basta uno sguardo per innamorarsene. Come scriverà lei stessa nei suoi diari, lui potrebbe essere l'uomo della mia vita. Lui si chiama Marco Fioroni e ha 24 anni, sei anni in meno di Donatella. È di Pescara, ma studia legge a Camerino. Tra i due scoppia subito un'intesa fortissima, è anche la passione. La sera stessa hanno dei rapporti intimi. Quell'amore inaspettato riempie la vita di Donatella, che subito inizia a fantasticare e soprattutto lei, quell'amore appena nato, lo idealizza immediatamente. Donatella però avrà un'amara sorpresa, sì perché quel suo Marco è tutt'altro che libero. Marco ha una fidanzata. Quando glielo dice, è il primo maggio, Donatella è partita da Francavilla con Antonella, direzione Camerino, dove lui studia e vive con altri coinquilini. Doveva essere una giornata spensierata quella, invece sarà una doccia fredda. Dapprima Marco gliela mette giù diversamente e le dice che la relazione con quell'altra ragazza non è proprio consolidata, è più un'amicizia. Una relazione basata sul senso di colpa, dato che questa ragazza in passato ha avuto problemi psicologici e lui non si sentiva di lasciarla sola, anche se, dice, lui non la sopportava più. Le giura che non appena finirà l'università la lascerà. Donatella ci crede, ci vuole credere forse, è talmente innamorata che si convince che il suo Marco frequenti un'altra ragazza che fondamentalmente gli fa pena. Se ne convince e si fa coinvolgere completamente da quella relazione ambigua, è un po' affollata. Lei, per dimostrargli il suo amore, lo riempie di attenzioni, coccole, regali e lettere, lunghe, lunghissime lettere. Per il suo compleanno gli organizza una festa, qui però può invitare solo gli amici più cari di Marco. I suoi no, lui non gradiva la loro presenza. Quella relazione che sembrava nata sotto una buona stella, piano piano diventa tossica. Dopo un po', a Donatella, la relazione con l'altra inizia a stare stretta. Lei, Marco, vorrebbe averlo tutto per sé, non vorrebbe dividerlo con un'altra, e per dimostrargli quanto ci tiene a lui e quanto fa maledettamente sul serio, gli dà le chiavi della casa di Francavilla e gli regala anche un telefono cellulare. Ma come accoglie Marco tutte queste attenzioni di Donatella? Male, si sente oppresso dal suo troppo amore, la ritiene asfissiante e con lei si mostra freddo, distaccato, distante, ma Donatella sembra non accorgersene, tira dritta come un treno e con lui parla di matrimonio. Ma perché Marco semplicemente non la lasciava? Perché si costringeva a stare con una donna che non amava? Perché farla vivere in quell'illusione d'amore? Le cose fra i due sembrano precipitare quando Donatella scopre di avere un ritardo. Va da un medico che le prescrive un test di gravidanza, che non è chiaro se la donna ha mai fatto. Donatella dice a Marco di essere incinta però, lui va nel panico e allora a quel punto, temendo che lui possa lasciarla, dice a Marco che no, non era più incinta, aveva interrotto la gravidanza. Un giorno Donatella chiama Lamberto, il suo più caro amico, e a lui confida di essere davvero incinta e che sarebbe partita il giorno dopo per Bologna per interrompere quella gravidanza. Lamberto però non crede che Donatella sarebbe stata capace di farlo. Che lo abbia fatto meno o addirittura che fosse incinta o meno non possiamo saperlo, ma per certo sappiamo che il rapporto fra i due non funzionava affatto. A detta di tutti quel rapporto era totalmente sbilanciato. Donatella lo amava, lui la trattava con distacco. Era capriccioso, un giorno la chiamava, il giorno dopo spariva, le dava appuntamenti per poi disdirle all'ultimo minuto e poi la chiamava sempre in orari improponibili, spesso di notte. Un'altelena di emozioni che dopo un po' lascia Donatella completamente senza forze. Piano piano il suo meraviglioso sorriso si spegne e diventa sempre più cupa, ma di lasciarsi non se ne parla. Dopo un po' anche a Donatella diventa chiaro che quell'altra non è un'amica bisognosa d'aiuto. Marco con lei ha una relazione vera e propria, una storia consolidata. L'altra è la figlia di un medico molto in vista di Pescara. E poi c'era lei, Donatella, talmente innamorata da non vedere il disastro di quella relazione, anzi inizia a pressarlo affinché lasci l'altra, gli dà un ultimatum, o lei o me, gli dice. E anche quando sarebbe il momento giusto per lasciarla, Marco non lo fa, anzi finge di accettare. Sì, la lascerò presto, le dice. Solo che ogni qualvolta lei lo chiamava a casa, lui non c'era mai, era sempre con l'altra. Lascialo, Donatella, le dicono i conquilini di Marco. Ma come può lasciarlo? Lui è l'amore della sua vita. Ed è come se Donatella non credesse di meritarsi un uomo tutto per lei, che potesse amarla con tutto se stesso. Come se quella fosse l'ultima occasione per essere felice, povera Donatella. Ma andiamo alla mattina del 26 luglio, la mattina dopo l'improvvisa partenza di Donatella. La ragazza non farà la solita chiamata mattutina alla madre, e questo mette subito in allarme i genitori, che non riescono a mettersi in contatto con lei. Donatella aveva con loro un rapporto viscerale, li sentiva dalle 4 alle 5 volte al giorno. Se Donatella si spostava anche solo per andare al paese vicino, teneva sempre al corrente i genitori. Per questo motivo Tina e Mario allertano subito le forze dell'ordine di Pescara, i quali, convinti si tratti di una fuga volontaria, si mostrano molto poco interessate a indagare. Dopotutto Donatella aveva 30 anni, poteva andare dove voleva, senza avvisare nessuno, ne aveva tutto il diritto. Gli inquirenti però, sollecitati dai genitori di Donatella, decidono di andare a casa, a Francavilla, e sul tavolo della cucina trovano tre bigliettini, che sembrano essere stati scritti di fretta, e con uno stile che non sembra quello di Donatella, come appureranno le persone vicine alla ragazza. In questi bigliettini Donatella comunicava che andava in Francia a lavorare per un paio di mesi. Inoltre, rassicurava tutti sul fatto che si sarebbe fatta sentire presto. Per gli inquirenti è tutto chiaro, Donatella se ne è andata di sua spontanea volontà. Le indagini finiscono qua. No, non sto scherzando. Nessuno, né l'immediatezza, né mai in realtà, cercherà Donatella. Nessuno interrogerà i suoi vicini di casa, nessuno ispezionerà la macchina della ragazza, né quella di Marco. Nessuno, a parte i genitori di Donatella, che non ricevendo alcuna chiamata e impazziti dalla preoccupazione, da Viterbo si mettono in viaggio per Francavilla, decisa a scoprire dove fosse finita la loro adorata figlia, e iniziano a scavare nella vita segreta di Donatella. In pratica si trasformano in due perfetti investigatori. La prima volta che entrano a casa di Donatella con loro c'è pure Marco, che ha le chiavi di casa della ragazza. E mentre Tina e Mario cercano in giro, Marco gli sta dietro come un secuggio. Tanto che a un certo punto Mario si spazientisce e gli intima di andare via. Gli dice non abbiamo bisogno di te, vai via. Non prima però di avergli chiesto quando avesse visto per l'ultima volta Donatella. Marco a Papa Mario dirà che erano quattro giorni che non la vedeva. Poi però agli inquirenti, che lo sentono come persona informata sui fatti, l'8 agosto del 1996, dirà che aveva visto Donatella nel pomeriggio del 26 luglio. Insieme erano andati in un negozio di telefonia. E siamo già a due versioni, due versioni totalmente diverse. Ma sarà anche quella una bugia? In effetti sì, perché saranno gli stessi genitori a scoprire la verità. Mario e Tina iniziano a bussare ai vicini chiedendo se qualcuno avesse visto la figlia quella sera. Due vicine, in particolare, diranno di aver visto Donatella uscire di casa intorno a luna con delle valigie e di essere salita a bordo di una Renault grigia, insieme a un uomo con un borsello. Le stesse vicine racconteranno che intorno alle 23.30 Donatella era rimasta turbata da una telefonata ricevuta. Inutile girarci intorno, quell'uomo è Marco Fioroni. Marco ha quindi mentito non solo ai genitori di Donatella, ma anche agli inquirenti. E perché? Cosa nascondeva il ragazzo? Per capire le ragioni di quella strana bugia, dobbiamo tornare indietro di qualche settimana. Abbiamo visto come i rapporti fra Donatella e Marco erano molto tesi. Donatella lo oppressava costantemente affinché lasciasse l'altra. Lui invece temporeggiava, ma sostanzialmente non faceva nulla. Poi improvvisamente qualcosa cambia, Marco con lei diventa più dolce e soprattutto inizia con lei a progettare un viaggio. Potremmo andare in Polinesia da un mio zio, le dice. Però le raccomanda di non dire niente a nessuno, altrimenti tutto sarebbe andato a monte. Donatella però non resiste e confida di quel viaggio ad Antonella, la sua migliore amica. Ma non solo, di quel viaggio verrà informato anche un suo amico della questura dove va a richiedere il passaporto. Poi però Marco viene a sapere che Antonella era al corrente del viaggio e va su tutte le furie, annullando la partenza. Ma cosa era dovuta tutta quella segretezza? Il 24 luglio Donatella va a trovare i genitori a Campobasso, ospiti della nonna. Non è la solita Donatella, sembra turbata, preoccupata. Giunge a Campobasso con la sua macchina, ma a metà strada l'auto leva in panne. La porta a riparare e poi sale in macchina dei genitori per andare a casa della nonna, solo che durante il tragitto riceve una telefonata. È Marco che le dice di tornare, pare per un problema di lavoro. Donatella, con aria rassegnata, sussurra. Se mi dici che devo rientrare, rientro. E così fa. Donatella chiede a papà Mario di accompagnarla alla stazione dei Pullman. I genitori sono sgomenti, non capiscono questo comportamento. quel rientro improvviso dopo neanche mezza giornata a Campobasso. Mentre abbraccia la madre in lacrime, all'orecchio le sussurra. Mamma, ti dispiace se ti dico una cosa? Ma non le dirà nulla, perché nel frattempo il Pullman era arrivato. La abbraccerà e basta, e poi se ne andrà. Quella sarà l'ultima volta che Tina e Mario vedranno la loro adorata figlia. Arriviamo a quel tragico 26 luglio. Nel pomeriggio Donatella incontra Marco a Pescara, in via Lumberto. Insieme vanno in un negozio di telefonia. Poi Donatella chiama Lamberto, il suo amico del cuore, e a lui comunica che sta per partire. Non gli dice però dove è diretta. Gli raccomanda solo di prendere il cagnolino che aveva trovato poco prima e di trovargli una sistemazione. E poi gli dice, quando sei a casa, guarda sotto i cuscini del divano. Con la stessa sera Pescara è in subbuio per la festa di Santa Andrea. Anche Marco in giro con la fidanzata, quella vera, quella ufficiale. Alle 23 però si congeda da lei. Mezz'ora dopo, precisamente alle 23 e 24, telefona Donatella. È ora di partire, preparati, sto venendo a prenderti. Mi raccomando, non dirlo a nessuno. Donatella che in quel momento era con due vicine davanti casa. Quando stacca la chiamata, alle amiche dice, voi non mi avete vista, voi non mi avete assolutamente vista. E svelta rientra in casa. Poco dopo arriva Marco, rimane un'ora, poi a luna esce di casa insieme a Donatella e le sue valigie. Sale a bordo dell'arena 5 di Marco, pronta per quel viaggio di sola andata. Un vicino affacciato a fumare, li aveva visti distintamente. Quando vengono a sapere di quella falsa testimonianza, gli inquirenti, 11 giorni dopo quel primo interrogatorio, convocheranno di nuovo Marco, che finalmente ammetterà di aver accompagnato Donatella, di averla lasciata alla stazione e di essere andato via. E non gli ha detto dove andava? Gli chiedono. No, risponde Marco. Ma è credibile che l'uomo l'abbia accompagnata in stazione e in nove minuti di tragitto non le abbia chiesto una volta dove andasse? E poi perché partire? Che motivazione poteva avere Donatella per mollare tutto e andare via da sola? Senza Marco, l'amore della sua vita, l'uomo che con un solo gesto riusciva a farla sorridere, come direi la stessa in uno dei suoi diari. Sempre durante quell'interrogatorio ad agosto, Marco ridimensionerà il rapporto con Donatella, definendo la loro storia niente più che un'amicizia. È una gran brava ragazza e io le avevo detto di non fissarsi con me e che per me è solo un'amica. Ma non solo, tenta anche discreditarla, infatti dice ancora. Da ultimo le feci capire che non avrei mai cambiato vita, come lei voleva a tutti i costi convincermi a fare. Donatella aveva un carattere strano e non sempre davo credito alle cose che diceva. In pratica le dà della mitomane, lui non aveva mai promesso nulla, erano solo amici. Dà anche una pista su dove possa trovarsi la ragazza. So che Donatella voleva andare in Spagna o in Francia e so che era attratta dalla cultura rom per avere conosciuto un nomade, diventato poi suo amico in Spagna. Ricordo che in valigia mi si è abiti estivi. Dirà anche qualcosa sulla gravidanza. Anche in questo caso ridimensionerà la portata della cosa. Mi palesso una gravidanza, ma io avevo forti dubbi in merito. Si giustificò dicendomi che aveva effettuato un'interruzione, ma non aveva un certificato che lo attestasse. Poi mi disse che se lo era inventato, poi di nuovo mi disse che era vero. Insomma, non sapevo mai se quello che mi diceva era verità o fantasia. Marco negherà che la loro storia fosse così intensa da giustificare una fuga insieme. Tutta una sua fantasia, dirà. Ma anche volendo credere a questo, possibile che non le abbia impedito di partire, che non si sia fatto dare un recapito, che non l'abbia pregata di dire dove andava. Valeva così poco anche quella supposta amicizia per Marco da non preoccuparsi per lei. C'è però un fatto che getterà su tutta quella vicenda un'ombra inquietante. Succede infatti che Tina e Mario, sempre loro perché ricordiamoci gli inquirenti, non hanno fatto nulla, quando vanno a Francavilla per indagare su quella scomparsa, sotto il divano di casa di Donatella, all'interno di una cartellina, troveranno una serie di lettere scritte dalla figlia. Una era indirizzata a loro, un'altra a dei parenti, un'altra ancora agli amici più cari. In ognuna di quelle lettere Donatella abisa a tutti che stava per partire per un lungo viaggio, ma di non preoccuparsi, stava solo seguendo il suo cuore. Non dice però dove va. Né tantomeno nomina la Francia. Scrive Donatella ai genitori. Cari mamma e papà, sappiate che non vado via per sempre, ma per una vacanza. State tranquilli perché non parto da sola. Forse ho trovato l'uomo della mia vita. Non telefonate a nessuno perché anche ad amici quali Antonella e Lamberto ho scritto una lettera, ma non ho detto loro dove andavo. Una vacanza lunga, troppo lunga. E poi perché in quei bigliettini lasciati sul tavolo aveva detto di andare in Francia a lavorare. Non è tutto molto strano. Quindi, ricapitolando, nei piani di Donatella c'era sì una partenza, ma non da sola, ma con Marco. Cos'è accaduto invece? E perché gli inquirenti continuano a non vedere nulla di strano in quella sequenza di elementi che sembrerebbero dire che su quel treno, insieme a Donatella, sarebbe dovuto esserci anche lui, Marco? Egli invece era Pescara, Donatella no. Poteva davvero non esserci nulla di anomalo in questo? Poteva davvero essere tutta una fantasia di Donatella, come diceva Marco. Ma non è tutto. Il 27 luglio 1996, alla casa di Viterbo, arriva una lettera che reca una strana intestazione. Cari mamma e papà, famiglia Grosso Mario. Spedita con posta prioritaria. C'è qualcosa di strano in quella lettera, però. Intanto è stata spedita a Viterbo, mentre Donatella sapeva benissimo che durante l'estate i genitori soggiornavano a Toro, in Molise. E poi quella lettera aveva una strana intestazione. Nella missiva, Donatella diceva che sarebbe andata a lavorare in un albergo per qualche mese. Una lettera strana, frettolosa, come quei bigliettini ritrovati in casa, che non sembrava scritta da lei. Alla luce di queste ultime novità, la procura di Chieti avoca a serie indagini ed apre un fascicolo per scomparsa. Ma già dopo qualche mese la procura archivia il caso. Per loro si tratta di allontanamento volontario. Verrà riaperto dalla procura di Pescara soltanto nel 2005. Ma ci arriveremo. Siamo nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. In stazione, a Pescara, nessuno ricorderà di aver visto Donatella, che conoscevano bene perché la vedevano sempre scorazzare con la sua cabrio. Passano i mesi e, delusi dall'archiviazione del caso, i genitori, sempre più convinti che Donatella non abbia preso alcun treno, decidono, in accordo con i loro avvocati, di affidare la loro storia alla trasmissione chi l'ha visto. Questo da un lato potrebbe dare una svolta alle indagini, dall'altro apre la porta ai mitomani. Donatella viene visto ovunque, ma ogni segnalazione, ahimè, si rivela infondata. Nel frattempo tentano in ogni modo di far riaprire le indagini chiuse dalla procura di Chieti, chiedendo alla procura dell'Aquila di avvocare a sé le indagini. Invitano il PM a, innanzitutto, interrogare nuovamente Marco, ma anche fare un sopralluogo nella casa di campagna dei genitori di Marco, circondata da un grandissimo terreno incolto dove i genitori di Donatella pensavano Donatella potesse trovarsi. Questo però non avverrà mai. I coniugi grosso si sentono abbandonati dallo Stato, decidono così di avviare delle iniziative personali, come ad esempio la pubblicazione su un giornale di una promessa di pagamento di 100 milioni di lire per chiunque portasse alla famiglia delle informazioni vere, fattuali e verificate su Donatella. A loro un giorno si presenta un sedicente investigatore privato che assicura che Antonella è viva e può dimostrarlo. I genitori di Donatella si fidano e affidano a quest'uomo l'incarico di ritrovare Donatella. Peccato che passano gli anni e niente accade, di Donatella non si hanno notizie di nessun genere. Nel 2002 quindi i coniugi grosso rimuovono questo investigatore dall'incarico, ma questo individuo non uscirà dalle scene, ahimè, e lo vedremo. Arriviamo al 2005, ben nove anni dopo la misteriosa sparizione e finalmente la procura di Pescara si decide a riaprire il caso. E colpo di scena, iscrive Marco nel registro degli indagati per un volontario e occultamento di cadavere. Dopotutto Marco è ufficialmente l'ultima persona ad aver visto Donatella. Finalmente la famiglia grosso ricomincia a sperare. La procura raccoglie tutti gli indizi che proverebbero che Marco potrebbe essere implicato in quella misteriosa scomparsa. E in effetti di dettagli inquietanti ce n'erano. E come? Come quella volta che Marco, a casa, a camerino, stufo di tutte le attenzioni di Donatella che lo soffocavano, se ne lamenta con il coinquilino, il quale con buon senso gli dice, ma perché non la lasci? Digli che è finita e basta. Secondo questa testimonianza Marco gli avrebbe detto, ma non serve, sai che ci vuole a liberarmene. La prendo e la porto di notte in montagna, la spingo e la butto di sotto. È bene libero. Tanto, chi la deve cercare? Poi ci sono quelle lettere ritrovate da Tina, che indicano chiaramente che il progetto di partire era condiviso con Marco. Anche Antonella, l'amica di Donatella, verrà interrogata. La donna racconta un episodio inquietante. Dice Antonella che il 12 luglio, il giorno dopo la scenata di Marco riguardo al viaggio in Polinese saltato, Donatella sarebbe piombata sul posto di lavoro dell'amica, accusandola di essere lei la colpevole di quel viaggio andato in fumo. Antonella, dopo il suo turno, raggiungerà l'abitazione di Donatella, ma questa fortemente arrabbiata non la farà salire. L'amica a quel punto non vorrà più saperne di quella storia. E da quel 12 luglio diraderà i suoi incontri con Donatella. Pare anche che l'amica le abbia poi accennato di un altro viaggio da fare con Marco. Emerge uno scenario di crescente delirio da parte di Donatella, talmente manipolata da Marco da litigare persino con la sua migliore amica. Anche Lamberto riferisce agli inquirenti di una conversazione avvenuta il 14 luglio, dove pare che Marco avesse prenotato dei biglietti per una destinazione sconosciuta, per farle una sorpresa. Il viaggio sarebbe dovuto avvenire in un fine settimana di luglio. Quindi, secondo queste testimonianze, anche Marco sarebbe dovuto partire per quel fantomatico viaggio. Cos'era accaduto invece? E Donatella ha mai raggiunto la stazione di Pescara? Nel frattempo, fra il 2005 e il 2008, l'inchiesta rimbalza da una procura all'altra, quella di Chieti, quella di Pescara, l'Aquila e infine di nuovo Pescara, che apre e chiude le indagini per ben tre volte, in un balletto assurdo di richieste di archiviazioni e istanze di riaperture. Ben sei in 18 anni e mai una volta Marco Fioroni è stato rinviato a giudizio, pur rimanendo l'unico indagato. La procura di Pescara, dopo aver archiviato e riaperto il caso nel 2008 su istanza dei legali di Grosso, nel 2010 dispone anche un incidente approbatorio per accertamenti sulla lettera, pedita il 27 luglio 1996 a Casa Grosso, a Viterbo, e affida gli accertamenti a RIS di Roma. I risultati ottenuti però furono ritenuti inadeguati al fine di stabilire se fosse o meno stata manipolata dall'indagato. L'avvocato Frazzitta, lo stesso di Piera Maggio del caso di Denis Pipitone, presenterà tre istanze di ulteriori accertamenti biologici per eventualmente estrarre il DNA dal francobollo apposto sulla lettera. Tutte le istanze verranno però rigettate. Nel 2015 le indagini si arenano un'altra volta e dopo ben tre richieste di archiviazione da parte del GIP il caso verrà archiviato per l'ultima volta in via definitiva. L'ultima istanza di apertura del caso è del 2017, anche questa respinta. I legali dei Grosso però non ci stanno e urlano la loro indignazione rispetto a un percorso di indagini fin dagli esordi condotto in maniera approssimativa, anzi l'avvocato Frazzitta, senza mezzi termini, parlerà di scandalosi deficit. Non è neanche stato disposto il sequestro dell'auto di Marco che, guarda caso, qualche mese dopo andò in demolizione. Non sono stati sentiti nell'immediatezza tutti i testimoni che negli anni daranno un quadro inquietante di quel rapporto, come ad esempio una testimonianza resa solo nel 2010 di una vicina di casa di Donatella che due giorni prima della scomparsa sentirà delle urla provenire dall'appartamento della Grosso. Ma non è tutto. Inspiegabilmente il GIP di Pescara, dell'epoca, aveva disposto la distruzione di tutte le intercettazioni raccolte dal settembre 1996 a febbraio 1997. Intercettazioni mai ascoltate né sbobbinate. Se qualcosa era venuto fuori in quei mesi non lo sapremo mai. Nel 2014 Tina e Mario erano ormai rassegnati al fatto che la loro Donatella non ci fosse più. Hanno presentato l'istanza di dichiarazione di morte presunta, in primis per mettere un punto su quella questione, ma anche perché il peso degli anni si faceva sentire e i conugi avevano l'esigenza di mettere a posto le cose pratiche. Avrebbero voluto vendere la casa di Francavilla a mare intestata a Donatella, che per lo Stato era ancora viva e quindi l'unica preposta a presentare un atto di vendita. Tina e Mario volevano liberarsi di quella casa, troppo dolore e anche un peso a livello economico, ma sembrava che il destino volesse accanirsi contro la famiglia Grosso. Qualcuno, inaspettatamente, si opporrà a quella dichiarazione di morte presunta e, tenetevi forte, quel qualcuno era il famoso sedicente investigatore privato che 15 anni prima aveva illuso i poveri conugi Grosso promettendogli di fornire elementi utili per ritrovare viva Donatella. L'uomo rivendicava il pagamento delle sue prestazioni, oltre al famoso premio di 100 milioni, ma non solo, l'uomo sosteneva di avere delle informazioni che provavano che Donatella si trovasse viva e vegeta a Cuba. Nel frattempo, ahimè, nell'ottobre di quell'anno, il 2014, Mario Grosso si spegne, sussurrando il nome della figlia, senza avere mai riamuto indietro, viva o morta, la sua adorata Donatella. A causa di quell'opposizione assurda, la famiglia, per mezzo del loro legale, Gianfranco Frazzitta, riuscirà ad ottenere la dichiarazione di morte presunta solo nel 2019. E non senza lottare, perché, inspiegabilmente, il fascicolo risultava perso. Verrà ritrovato, proprio nel 2019, a casa del presidente in pensione del tribunale di Chieti, che non si sa come né perché se l'era portata a casa. Piccolo spoiler, di questa negligenza gravissima nessuno pagherà mai. A questa dichiarazione di morte presunta, l'investigatore, sempre lui, farà ricorso alla procura di Chieti, ritenendo di dover ancora ricevere la bellezza di 150 mila euro, 100 mila come premio per aver fornito informazioni su Donatella, e 50 mila euro come compensi per prestazioni varie. Non basterà la documentazione che attestava che l'uomo era stato pagato fino all'ultimo centesimo. L'uomo chiederà il sequestro di tutti i beni della famiglia Grosso. In pratica, voleva impugnare il testamento. Paradossale, vero? Il ricorso, grazie a Dio, verrà rigettato dalla procura di Chieti, ma rimane lo sgomento per una vicenda che aggiunge dolore e avvilimento a una famiglia così già duramente colpita dal destino. Tina, la madre di Donatella, ancora oggi non si rassegna a quella perdita, ma è certa che la figlia non ci sia più. Vorrebbe solo poter avere un posto dove andare a pregare, come avrebbe desiderato Mario, che fino all'ultimo dei suoi giorni ha lottato affinché il caso di Donatella non cadesse nell'oblio, chiedendo alle procure di riaprire le indagini ogni qualvolta queste venivano archiviate. Se fosse ancora tra noi, Donatella avrebbe più di 55 anni e chissà cosa avrebbe fatto della sua vita. Forse si sarebbe sposata, avrebbe avuto dei figli, sarebbe diventata anche lei un'insegnante come i genitori. Domande che non avranno mai risposta in lei. Di Donatella rimane il ricordo di una ragazza semplice dal sorriso contagioso, dall'animo romantico. Una figlia amatissima a cui è stato negato il diritto di stare accanto ai propri genitori, ma è anche la storia di due genitori che non si sono mai arresi a quella ipotesi di allontanamento volontario. Due esempi straordinari di tenacia e amore genitoriale. A difendere la memoria di Donatella è rimasta Tina, donna fortissima, che in fondo al cuore spera ancora di riabbracciare la figlia. E si conclude così il mio video. Conoscevate il caso di Donatella Grosso? Che ne pensate? Secondo voi è davvero partita da sola? Ha preso un treno da Pescara ed è andata chissà dove, magari a Cuba? Oppure ha fatto un'altra fine? Che non sappiamo. È un caso triste perché innanzitutto per la perdita di una così giovane ragazza e poi perché davvero la sciatteria delle indagini mette rabbia, davvero fa rabbia, fa molta rabbia. Questi poveri genitori che da soli si sono messi a indagare sostituendosi allo Stato, sostituendosi alla giustizia, è una cosa che veramente lascia annichiliti e davvero mi ha molto colpito questa storia. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Iscrivetevi anche alla pagina Instagram se volete e a presto con una nuova storia crime. Ciao!